Papa Francesco che è arrivato in Birmania e c'è tutta l'attesa per l'appello del Papa. Appello per chi? Per che cosa? Adesso lo vedremo. Ecco, per questo popolo, questa popolazione buddista di Erongia, che è una delle 135 etnie della Birmania, attuale Myanmar, e che non viene riconosciuto e che non ha il diritto minimo, diciamo, di parola e di rappresentazione. E qui sta protestando e pensate un po', si aspetta Papa Bergoglio perché spenda una parola contro questa incredibile discriminazione di questa piccola etnia, che è fatta quasi esclusivamente di modaci e li vedete, buddhisti, ovviamente una delle tante connotazioni del buddismo e di quella religione e il Papa cattolico dovrebbe in qualche modo intervenire per spendere una parola e nel momento che li cita in qualche modo vengono riconosciuti perché su di loro c'è il silenzio totale.